Andiamo a conoscere un po' meglio Voi avete iniziato la vostra esperienza in un garage Nella migliore tradizione alternative rock punk americana Descrivimi questo garage In pratica è una stanza di 3 metri per 3 Vabbè, fino a quanto? Qui ci stava una batteria e io, con la mia chitarra Che è un amplificatore da 15 watt Ok, quindi non facevi molto rumore I vicini hanno mai chiamato i carabinieri? No, anche perché la tua casa non ha vicini La casa di Gabriele che ha la batteria La batteria poi l'abbiamo portata in garage? Sì, sì, l'abbiamo portata quindi tutto a posto Adesso dove provate? Sempre in quel garage? No, adesso ci hanno dato una sala vicino alla chiesa Con un mix, un impianto E quindi ci date dentro secco Cosa ci dobbiamo aspettare stasera dal vostro live? No, noi ci aspettiamo di divertirci E che si diverta anche il pubblico Ok, allora pubblico, dovete divertirvi Fatevi un applauso e fate un applauso al primo gruppo Rimanete fino alla fine Loro sono gli diversi Paggiano 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 Verdena, batteria e chitarra. Speriamo che porti bene. Ok, io sono Stefano, Luigi e Luca, Riccardo e Mario. Allora, gli Aida Uedo sono caldi, vedo che lì c'è un bel po' di pedali, li utilizziamo tutti in 20 minuti. Facciamo un applauso agli Aida Uedo, sono il secondo gruppo di sera. Ragazzi, accendenti i motori. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. sono principalmente Museo Esis però abbiamo pensato bene e dire, facciamo pezzi anche nostri quindi da un anno ci stiamo direttando a fare nostri pezzi molto molto bene, allora sono loro pezzi una band emergente che fa musica propria complimenti, coraggiosi, facciamo un applauso al traffic lighting musica 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 No, 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 no No, 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 no